Ciao ragazzi bentornati nel video del giorno dopo in questo giorno in cui la Roma la Roma non so se ve ne siete resi conto ma vi do questa statistica deliziosa sfiziosa pazzesca l'ho analizzata stamattina con tutti i grafici Excel vince la seconda partita di fila per 3 a 0 ve ne eravate accorti voi ragazzi? Beh oggi allora è un giorno abbastanza tranquillo dai perché di solito qui siamo abituati a soffrire, a vedere, a fare, a impregare a fare cose brutte il giorno dopo in realtà oggi siamo tranquilli perché la Roma tutto sommato la partita l'ha incanalata nel verso giusto anche se diciamo che i primi minuti non era proprio una partita così scontata tant'è vero che i primi 20 minuti tutti quanti ieri nella fantastica live se non lo sapete noi facciamo su questo canale delle live di commento durante le partite quindi se non lo sapete iscrivetevi al canale e attivate la campanella durante la live commentando con voi i primi 20 minuti non erano stati eccezionali della Roma diciamo che non è che neanche l'Istanbul avesse fatto chissà cosa però quantomeno era una partita abbastanza equilibrata la partita si è aperta ovviamente con il calcio di rigore secondo me poi si è chiusa sul 2 a 0 fino al 2 a 0 ci sono state occasioni da parte dell'Istanbul per esempio il fuorigioco che è stato fischiato all'Istanbul che non c'era con Santon che teneva in gioco l'attaccante appunto dell'Istanbul che poi avrebbe grossato dentro per il pareggio dell'1 a 1 c'è stato il calcio di rigore dubbio diciamo più sì che no su Zaniolo che sta per tirare di destro e che viene sbilanciato con il gomito in area di rigore dell'Istanbul quindi quello sarebbe potuto essere un altro calcio di rigore non ricordo se stavamo già sullo 1 a 0 o sullo 0 a 0 ma sta di fatto che era un calcio di rigore per la Roma oltre quello che ci è stato fischiato per fallo di mano del difensore su tiro di Pellegrini e poi nel secondo tempo c'è stata questa occasione con il pallone che va a sbattere sul braccio di Smalling e anche lì non viene fischiato niente è chiaro che la Roma in questa situazione non ci doveva neanche arrivare perché sapete bene che questo ginone è stato comunque condizionato da errori soprattutto quello all'andata con il Borussia Mönchengladbach detto questo però voglio dirvi una cosa adesso non è che dobbiamo pensare che l'Istanbul è una squadra scarsissima perché è una squadra scarsa non stiamo parlando del Borussia Dortmund o di una squadra comunque di livello però la Roma è stata brava a chiudere perché poi queste sono le classiche squadre come può essere una squadra medio piccola della Serie A che ti mettono in difficoltà se tu non riesci a sbloccare questa partita allora la Roma è stata brava a sbloccarla è stata brava a rinclanarla nel verso giusto sul 3-0 la partita finisce completamente ciò non toglie che anche il 3-0 lo devi andare a fare ed è importante quindi Paolo Lopez 6 e mezzo voi direte sì vabbè però no allora intanto Paolo Lopez stoppa tutte le palle che gli arrivano quelle che vanno stoppate e respinge quelle che vanno respinte che è una cosa straordinaria perché l'anno scorso eravamo abituati a vedere solamente respinte da parte di Olsen e poi gioca con i piedi e c'è una bella presenza per di più fa una gran bella parata su un'azione che comunque era un fuorigioco da parte dell'Istanbul nel primo tempo quindi Paolo Lopez secondo me si merita comunque un bel 6 e mezzo c'è sempre in partita il cafù bianco Santon 6 e mezzo ragazzi fatemelo dire lasciatemelo dire non mi fermate non mi fermate non mi dappate la bocca buona partita da parte di Santon lo voglio dire perché uno potrebbe dire no perché tu gli dai sempre contro di qua di là allora ragazzi innanzitutto non gli do sempre contro quindi non mi mettete in bocca parole che non sono mie io lo supporto lo dico oltremodo Santon perché è un giocatore della Roma è chiaro che ha dei problemi ha dei problemi soprattutto secondo me dal punto di vista di testa perché poi fisicamente ci sta ha una buona velocità ha un buon fisico il piede secondo me non è pessimo ieri ha fatto degli ottimi stop al volo che denotano comunque una capacità tecnica lui ha dell'incapacità quando va avanti e quando deve prendere delle decisioni tante volte infatti fa dei buoni dribbling e poi punta il difensore perché dice io gliela tiro addosso così poi posso dire eh lo so te l'avevo data bene però il difensore è stato bravo no lui punta proprio il difensore a tirargliela addosso ma va bene gli vogliamo bene è un tercino particolare io gli voglio stra bene a Santon fin tanto che rimarrà calciatore della Roma ieri ottima partita in fase di difensiva belle coperture belle letture bello tutto pensavo che avesse dato pure il cross per Dzeko per il terzo gol in realtà era Pellegrini infatti stavo sotto shock ho detto oddio mazza che palla invece non era lui era Pellegrini Mancini sei e mezzo ho visto che alcuni hanno dato un voto più alta a Mancini rispetto a Smalling adesso probabilmente perché guardando gli highlights gli extended highlights alcuni giornalisti hanno potuto notare quell'occasione in cui l'attaccante dell'Istanbul non mi chiedete neanche i nomi perché per me ieri l'attaccante dell'Istanbul non esistevano minimamente ha addirizzato un po' la telecamera ragazzi che purtroppo si è storta strada facendo il bianco rilla pod si sta storcendo ha contrastato praticamente un tiro a colpo sicuro dell'attaccante dell'Istanbul e va bene quella è stata una grandissima lettura però ha sbagliato qualche palla in uscita ha sbagliato qualche tempo di uscita secondo me e soprattutto ha sbagliato un gol nel finale di testa che doveva fare voi direte si ma stavamo già sul 3-0 non vi preoccupare chi ha visto la live sa perché lui avrebbe dovuto segnare quindi mezzo punto meno rispetto a Smalling a Mancini gli do il 6,5 a Smalling gli do il 7 perché ieri oltre a fatto negli ultimi minuti l'ha giocato il capitano quindi c'è solo un capitano un capitano cantavano i tifosi della Roma ieri quindi Smalling gli do gli do 7 ma soprattutto quando va in velocità e quando gli si mettono a giocare sul suo piano che è la la velocità e la fisicità mi piace tantissimo sono molto curioso e qui lancio subito già apro Inter-Roma di vedere Smalling con Lukaku perché sono due diciamo calciatori che fanno un po' scopa nel senso che sono simili per caratteristiche voglio vederli uno contro l'altro sono molto incuriosito da questo Kolarov 6,5 non è stato il peggiore in campo ieri tutto sommato non ha fatto neanche cose eclatanti fortunatamente si è un po' riposato una partita abbastanza abbastanza anonima di Kolarov che si becca 6,5 Diavara 6,5 anche lui Diavara io voglio dire una cosa sta spingendo come un matto di panca piana allora Diavara sta esagerando di panca piana perché mi sembra ah ecco è la telecamera sopra che si muove ah che birbante non è il Gorillapod Diavara sta spingendo di panca piana e sta crescendo in volume se lo vedete di lato si sta espandendo tipo un po' Giulio Badessa se lo ricordate grande Giulio mai dimenticato su questo canale e Diavara sta mettendo fisicità poi vedo che affonda bene nei contrasti va lì a dare fastidio chiaramente non è velocissimo non è un fulmine di guerra come per esempio può essere Peretulli al centrocampo però è un giocatore che mi sta piacendo sia per qualità di passaggi c'era una statistica mi sembra con il Brescia 97% di passaggi riusciti Diavara quindi parliamo comunque di un centrocampista che sta facendo bene e in più ha anche fisicità all'interno dell'area di rigore sui calci d'angoli che non fa mai male diciamo che i calci d'angoli quest'anno i calci piassati in generale saranno comunque una chiave importante per la Roma Veretù rigorista Kolarov è stato declassato non è più rigorista della Roma è rigorista adesso apparentemente è Veretù non c'è niente di ufficiale ma chiaramente lo sta tirando adesso lui i calci di rigore segna il calcio di rigore fa una partita classica sua Veretù 7 gli ho dato 7 gli avrei anche potuto dare 7 e mezzo ma comunque tutta la Roma ha fatto bene quindi Veretù si becca un bel 7 anche perché va a coprire Kolarov quando lascia il buco per esempio c'è stata un'azione emblematica in cui ha messo il turbo per cercare di andare a tappare il buco lasciato da Kolarov che stava alto e si becca un bel 7 Zagnolo gli voglio dare il peggiore in campo anche se ieri di peggiore in campo non si può parlare perché comunque tutta la Roma ha giocato bene nel complesso gli voglio dare 6 e mezzo perché secondo me l'occasione in cui poi viene sbilanciato in cui doveva segnare è un'occasione che lui con il suo fisico deve giocare diversamente perché è vero che ti hanno adesso sbilanciato però il rigore l'arbitro non te l'ha dato e quindi che cosa è successo che hai perso un'occasione di segnare e lui con il suo fisico deve giocarsi meglio vi faccio un esempio mi è venuto molto in mente un gol che fece Cassano con l'Inter in cui fu tamponato e Cassano si mise con il corpo e riuscì chiaramente Cassano c'è una fisicità diversa ma era comunque bello piazzato riuscì a segnare quel gol poi quella peraltro fu una partita con l'Inter in cui ci furono annullati mi sembra 3 o 4 gol completamente regolari un saluto agli amici interisti che sono sempre storicamente danneggiati dagli arbitri e fece quel gol proprio essendo tamponato da uno se non due i giocatori dell'Inter fece un gol a pallonetto bellissimo e mi ha ricordato un po' quella di situazione perché poi lui con il suo fisico deve proteggere quella parla e metterla in porta è chiaro poi la spinta probabilmente c'è stata però nel complesso Zagnolo non si è esaltato ci sarebbe da fare un discorso anzi facciamolo un discorso su Pellegrini lo accenno minimamente perché poi adesso si sta diffondendo questa storia che Pellegrini e Zagnolo non possono giocare insieme quindi Zagnolo 6 e mezzo Pellegrini 7 e mezzo il migliore in campo per Meglieri perché entra in tutti e tre gollo Pellegrini che cosa fa? Pellegrini cerca di fare la palla quella che Spalletti definì per Totti del K se ve lo ricordate e la palla del K Pellegrini ce l'ha perché l'abbiamo vista con il passaggio per Kluivert intanto ho un'illuminazione divina e mi si continua a spostare questa telecamera ragazzi non so io cosa debba fare ma va bene questa telecamera ha deciso di roteare su se stessa intanto il sole ha deciso di illuminarmi proprio perché simbolicamente mi vuole mi vuole così benedire ma comunque Pellegrini la palla del K ce l'ha perché l'abbiamo vista appunto nel secondo gol nel terzo gol bellissima ancora più bella del secondo gol sebbene quella del secondo gol strappa forse un po' più d'occhio perché è una palla a pallonetto però Zagnolo che fa Zagnolo difficilmente si butta nel buco l'ha fatto nell'occasione appunto del rigore ma difficilmente va oltre il difensore vi ricordate la polemica che faceva Spalletti con Salah che non va mai oltre ecco Zagnolo mi sembra che sta in quella fase chiaramente è giovanissimo deve imparare a farlo però Kluivert per esempio riesce a farlo un po' meglio anche per caratteristiche fisiche Zagnolo invece ama prendere la palla ed andare in progressione ieri per carità ha fatto tantissime progressioni anzi me ne è venuta a mente una nel secondo tempo in cui è stato lasciato stra solo e ha fatto un grandissimo dribbling però lui difficilmente si butta nello spazio per andare a prendere quella palla e forse è lì che con Pellegrini però ragazzi si tratta veramente di un dettaglio quindi dire che Pellegrini e Zagnolo non possono giocare insieme mi sembra chiaramente un'esagerazione direi giornalistica mi dispiace che alcuni tifosi ci imboccano con tutte le scarpe comunque detto questo Kluivert 7 ieri finalmente fa quello che deve fare cioè puntare la porta andare in velocità e segnare senza fare 50 dribbling c'è stata anche un'altra palla che gli aveva dato Dzeko che ha giocato male non mi è piaciuta quell'occasione però poi alla fine il gol l'ha fatto anche bello Kluivert 7 Dzeko 7 perché fa un grandissimo gol fa la giocata più bella della partita che è stata quella di togliersi la fascetta di metterla al braccio di al braccio di di Smalling voglio cambiare adesso il mio peggiore in campo lo voglio dare a Under lo voglio dare a Under che è entrato e ha sbagliato tutto quindi Under 5 il peggiore in campo che non era chiaramente tra i titolari Zagnolo non è più il peggiore in campo il peggiore in campo colpo di scena nel finale di video lo diamo ad Under Spinazzola è entrato anche lui non benissimo gli voglio dare anche anche a lui un 5.5 Zagnolo peraltro ha concluso anche falso 9 il terzo cambio della Roma assolutamente non mi so bene perché stavamo probabilmente già festeggiando con i fumi dell'alcol ve lo vado subito a dire è chiaramente Miki Daniel che è entrato con Under un bel 6 perché Miki Daniel poi alla fine non ha fatto grandi cose ma non ha fatto neanche grandi errori come Under Miki Daniel che è stato fatto entrare con Under gli si è nascosto dietro per evitare che ci fossero fischi insulti o cose abbiamo fatto un po' così un po' i vaghi con Miki Daniel ragazzi fatemi sapere se siete accorti doveva già io vi saluto vi ringrazio ciao tattico e ciao a tutti quanti grazie a tutti